Un altro ciocco. Centro spirituale Frattocchie, attraverso Flora, a cura di VB. Entità. Un altro ciocco si è consumato nel braciere della vostra esistenza, un ciocco pesante ed umido, perché intriso di lacrime, che vi ha soffocato, annebbiato di fumo, piuttosto che donarvi calore. Perciò hai sentenziato con una certa rabbia male contenuta che non andrà in chiesa al tradizionale rito di ringraziamento. Lo hai fatto anche l'anno della mia morte, ricordi? Allora gridasti, non ho proprio nulla da ringraziare, non ho nessuno al quale dire grazie. Ti compresi, ma anche ne soffri, perché non potevo ancora farti pervenire i miei pensieri, perché anche tu, come tante altre creature profondamente ferite, non riuscivi a vedere oltre il tuo umano, limitatissimo, orizzonte. Vedi, la scienza dell'uomo, sempre più allargata, lo ha difeso da tantissime malattie e gli ha offerto tantissimi mezzi atti a facilitargli la vita. Un giorno lo renderà immune da altre terribili patologie, forse da certe radiazioni tuttora letali, ma nessuna scienza mai preserverà l'essere umano dal dolore. Dovresti comprenderlo, almeno in parte, ora che cammini sulla strada della ricerca, come dovresti ringraziare Dio davanti alle ceneri del tuo ciocco avaro, in attesa di porne uno novello, sempre sperando che vi doni più allegrezza, più luce, più calore. Pensa quanti giovani robusti, promettenti ciocchi, non sono giunti a consumarsi per intero. E pensa che non è Dio a disboscarli, a sceglierli, a predestinarli, ma proprio voi stessi, prima e durante la vostra avventura terrena. Dio è soltanto il creatore della foresta. Commento. La condizione umana è contraddistinta dal dolore, perché nella gerarchia dell'evoluzione universale, quella umana occupa un gradino basso. Non a caso, infatti, il nostro corpo fisico, che è l'ultima risonanza della coscienza, è denso di materia, come il corpo fisico delle forme di vita animali che precedono l'uomo.